Giovedì 30 marzo 2017, 89esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'Ariete. La chiesa ricorda Sant'Amedeo di Savoia. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Amedeo e Decio. Accadde oggi. Il 30 marzo del 1876 Trieste è la prima città italiana a dotarsi di un trasporto pubblico. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo il chitarrista britannico Eric Clapton, nato a Ripley il 30 marzo 1945. La citazione del giorno. Ero intelligente e volevo cambiare il mondo. Ora sono saggio e sto cercando di cambiare me stesso. Dalai Lama. Dice il saggio. Quando uno solo parla tutti lo intendono. Ma se tutti parlano chi li intende? Proverbio abissino. La parola preziosa. La parola di oggi è balogio. Questo simpatico aggettivo di origine incerta indica qualcosa di fiacco oppure di incerto. Tempo balogio è ad esempio un tempo uggioso prossimo a piovere.